Premier Resort, una nuova idea di ospitalità attenta ai nuovi stili di vita e alle nuove tendenze della vacanza per chi richiede il meglio della riviera unito al fascino modaiolo di Milano Marittima. 3 hotel a 4-5 stili direttamente sulla spiaggia, 172 camere, 6 luxury suite, 6 ristoranti, centro benessere e private spa, 3 piscine e spiaggia privata. Scopri le offerte estate 2011 e i pacchetti 2-3 notti, benessere, romantici e no gastronomici, golf. Grazie a tutti.